A parte questa nuova avventura, belli carichi. Sì, davvero, è una bella emozione avere qua tutta la squadra, poterla presentare davanti alla mia città, davanti alle autorità, è veramente una bella soddisfazione, una gioia e anche una bella emozione, perché sento che l'adrenalina sale, la concentrazione è pura, è la terza volta, ma ormai mi tocca dire che è la terza prima volta. Il pilota Aretino Stefano Rossi è tutto il suo team, pronto per l'edizione 2020 dell'Africa Eco Race, al suo fianco ancora una volta il fidatissimo navigatore Alberto Marcon. Dal punto di vista meccanico-tecnico abbiamo apportato delle novità, delle migliorie, quindi in base alle esperienze fatte gli anni passati abbiamo migliorato alcune cose nella meccanica e sperando che sia una miglioria proficua. Alla presentazione della squadra, ospitata dalla Casa dell'Energia di Arezzo, anche il sindaco Alessandro Ghinelli, che ha consegnato la bandiera della città al pilota, assieme a lui anche l'assessore Lucia Tanti, il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, che ha legato al collo di Stefano Rossi la bandiera della giostra del Saracino. L'Africa Eco Race, che ricalca il percorso della Parigi-Dakar, partirà il 4 gennaio 2020 dal Principato di Monaco per poi proseguire la mattina successiva per Savona, dove i mezzi saranno imbarcati alla volta di Tangeri. Da qui il 7 gennaio prenderà il via la gara vera e propria che comprenderà 12 tappe per 4.500 chilometri, tra territori sassosi, deserti di Marocco, Mauritania, Senegal, fino all'arrivo a Lago Rosa, previsto il 19 gennaio 2020. Sì, i chilometri sono molti, l'Africa Eco Race rappresenta una gara in stile perfettamente in linea con quello che sono le gare africane, e quindi secondo me è il percorso che attraversi, ti devi adeguare da un percorso sassoso dei primi giorni del Marocco, che non fa sconti, non ti regala nulla, come poi passare alle piste, alle dune, arrivare in Mauritania, uno scenario bellissimo che mentre vi parlo rivivo anche il contesto e i colori che mi vengono dall'emozione di aver traversato quei percorsi, e secondo me non hai mai la possibilità di goderti appieno quello che è intorno, sei dentro un paradiso della natura, ma è per noi il parco gioco attraversare quei terreni e quei fondi. C'è anche da faticare, perché io mi alleno tutto l'anno per arrivare a fare questa competizione, Alberto lo stesso, però siamo preparati, pronti, cercheremo di dare il massimo anche quest'anno.